Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riferito in Senato Il rilancio della crescita, dell'occupazione soprattutto giovanile, la lotta al cambiamento climatico e il sostegno alla green economy rappresentano degli obiettivi prioritari e necessitano forti segnali e chiari da parte dell'Europa Sono lieto che la centralità di questi obiettivi sia stata riaffermata dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in occasione del voto del Parlamento europeo a favore della nuova Commissione europea il 27 novembre scorso Il governo italiano intende promuovere, in seno al Consiglio europeo, questo tipo di approccio nei confronti delle altre istituzioni europee e, come ho appena detto, una maggiore coesione fra i leader europei Non è questo, nella famiglia europea, il tempo per dividersi o per lasciarsi dividere Oggi, nel mondo, in Europa, tanti cristiani sono perseguitati e danno la vita per la propria fede Sono perseguitati con guanti bianchi, lasciati da parte, marginati Il martirio è l'area della vita di un cristiano, di una comunità cristiana Sempre ci saranno i martiri fra noi E questo è il segnale che andiamo sulla strada di Gesù Scomparso da oltre vent'anni e ora ritrovato non distante dal luogo in cui era stato rubato È la recente storia del dipinto di Gustav Klimt, ritratto di signora rubato nel 1997 alla Galleria d'Arte Moderna, Ricci Oddi di Piacenza e ritrovato in una intercapedine esterna della galleria chiusa da uno sportello e coperta da una folta edera Una prima analisi avrebbe confermato che si tratta dell'opera rubata di fatto una delle più ricercate al mondo La dinamica del furto però non è mai stata chiara Non si sa da dove i ladri lo fecero uscire e negli anni, fra gli indagati, sono passati anche i custodi della struttura la cui posizione venne però poi quasi subito archiviata per mancanza di prove Nella 2016 l'inchiesta venne invece riaperta per il ritrovamento del DNA di uno dei presunti ladri sulla cornice del quadro Nel 2018 il settore dei vini e degli spumanti biologici è cresciuto sensibilmente sia per quanto riguarda il fatturato più 38,6% che come quota sul totale del comparto con un'incidenza dell'1,4% Il trend economico è stato comunicato in occasione della firma dell'accordo raggiunto tra FederBio, Federazione di Organizzazioni della Filiera dell'Agricoltura Biologica e Biodinamica e UIV, l'Unione Italiana Vini per la valorizzazione e tutela del settore i viti vinicolo biologico italiano Secondo il documento, nei primi otto mesi del 2019 le vendite di vino bio nella grande distribuzione sono cresciute del 363% rispetto al 2006 arrivando a 35,2 milioni di euro